Sono Oscar Dalvit, General Manager di Migaston, un franchising che si occupa di applicazioni per le piccole e medie imprese, specialmente pool de servizi. Con le applicazioni risolviamo un problema che è la comunicazione con i propri clienti. Il nostro per esempio ipotetico cliente è un ristorante, 500 clienti, non li sente neppure durante il mese, da oggi con un'app ci starà molto più vicino grazie alle notifiche push. Per potenziare, capitalizzare questo strumento nel tempo abbiamo creato un concetto esclusivo che è App Metropolis, è il primo al mondo sistema per trovare applicazione tutto intorno a voi, quindi creiamo dei circuiti commerciali di app all'interno di ogni città, di ogni provincia, quindi cosa succede? Non solo garantiamo un sistema per fidelizzare grazie alle nostre app, ma mettiamo queste app in rete e quindi portiamo nuovi clienti.